Regenia, dimmi una cosa su tua mamma. Su mia mamma, non so, è una madre per me fantastica perché abbiamo molto in comune e siamo più come amiche e questo mi risparmia anche molte bugie e scusa. Ecco, che effetto ti fa avere delle sorelline così piccole? Tu oramai sei grande, 17 anni. Sì, è strano però è bello perché, non so, è più come se fossero figlie mie, per la differenza d'età. A volte lei porta a passeggio le bambine e pensano che lei sia la madre. Ecco cosa ne pensa lei, ha detto anche il suo parere. Oppure ci vedono insieme e pensano che noi siamo sorelle se non... Però in fondo la felicità ti è venuta da un uomo italiano a cui bisogna dire anche grazie. E a lui è venuta da una donna americana. Brava, Robina. A te le mani, un'altra.